Diciamo che è un buon giocatore innanzitutto perché è stato tagliato pochi giorni fa da una squadra dell'NBA, dai Denver Nuggets. Tanto è vero che è ancora bloccato a Denver perché oggi c'è stata una forte nevicata e quindi purtroppo per noi non è ancora riuscito a raggiungere Washington dove dovrà andare a prendere il visto. Un giocatore che ci piace, è diverso da Robinson perché è meno fisico, meno altezza, però forse un po' più di velocità e forse anche più talento offensivamente, quindi qualche punto forse più nelle mani, più tiro dalla lunga distanza. Diciamo che nella sfortuna perché subire un infortunio da parte di un giocatore in Lega 2 dove ce ne sono solo due è veramente una sfortuna. Però in questa sfortuna siamo stati fortunati dal fatto che proprio in questi giorni è partito il campionato NBA e dove ci sono stati diversi tagli e quindi devo dire che la scelta era buona. C'erano anche tanti altri buoni giocatori. Sicuramente Brindisi è una grande squadra, grandi giocatori, però noi questa settimana qui la stiamo vivendo tranquillamente. Ci stiamo allenando e americano, nuovo americano, non nuovo americano, noi con quelli che vanno in campo dobbiamo cercare di dare il massimo per riuscire a portare a casa la partita. Come ha detto Gianluca Rima, speriamo che anche sugli spazi ci sia un bello spettacolo. Anche domenica ai nostri tifosi devo dire che si sono fatti sentire. Grazie a tutti.